Un applauso al presidente Pino da ragazzi che ha permesso tutto questo insieme al suo magnifico gruppo per la seconda edizione, vi promettiamo che negli anni cresceremo sempre di più in collaborazione con Sexy Animation, vi presento il mio staff con le puntatine bianche, Lili, con le puntatine nere, Claudia Quella senza supervivere, non c'è, non c'è Alla musica, Iconos DJ Buon saluto a tutti gli amici di Facebook ragazzi che stanno seguendo la nostra diretta Se pubblicavano i giornali mi sa che non ci caccava nessuno Buon saluto a tutti Buon saluto a tutti Buon saluto a tutti Grazie Grazie